Lei non ha detto a nessuno che veniva qua. A nessuno? Vuole bere qualche cosa? Un caffettino? Sì, grazie. Lei è sano, si vede, forte. Non è mai stato ammalato? Mai, signora? Io ho avuto subito simpatia per lei. Si vede che lei è una persona per bene. Ma non vorrei farle perder tempo. Passo subito alla cosa. Perché dovrei... Due caffè, Piero. Usare delle perifrasi. Lei non potrà che apprezzare la mia franchezza che è in fondo una prova di stima. Certo. Le dico a priori che tutto questo deve restare fra di noi. Io non la conosco. Mai visto. D'accordo? D'accordo. Le consiglierei di non parlarne neanche a sua moglie. Proprio a nessuno. A nessuno, Stirlu. La domanda potrà stupirla. Me ne rendo conto. Lei... Lei venderebbe un occhio. Può rispondere quello che vuole. Ci mancherebbe altro. Che va? Che va? Che va? Tu vii... Non è importante? Grazie a tutti.